E' iniziata questa mattina l'autopsia sul corpo di Raymond Connor, il marinaio inglese di 23 anni trovato morto all'interno del deposito ex salso di Caratan Selmi. Sulla vicenda ha aperto un'inchiesta su tutto procuratore Enrico Cinella della Porta, anche se come emerso subito dei primi accertamenti dei poliziotti della squadra mobile, tutti gli elementi riconducono una tragica fatalità. E' stato appurato che il giovane appassionato di parkour, una sorta di disciplina sportiva caratterizzata dall'arrampicarsi in luoghi inaccessibili nelle città, si è arrampicato sul tetto della struttura adiacente al Museo Navale salendo dall'esterno attraverso una grondaia. Dopo aver camminato su un tetto in tegola ha raggiunto una fragile copertura di ondulux che non ha retto il peso e ha ceduto facendolo precipitare per una decina di metri all'interno del deposito, un tempo impiegato per il commercio dell'olio e oggi destinato a manifestazioni ed expo. Considerato che è stato rilevato che il ragazzo non è morto sul colpo ma si è trascinato a terra per diversi metri, il medico legale Luca Vallega dovrà accertare quando sia avvenuta la morte e attraverso esami tossicologici se il giovane avesse assunto alcol o altre sostanze che potrebbero averne compromesso la lucidità. Intanto i poliziotti della mobile hanno appurato anche che Raymond Connor ha compiuto la fatale impresa da solo per girare un video dal tetto del Museo Navale, poi ha inviato alla sorella con il telefonino. Proprio grazie a quel video polizie e vigili del fuoco l'altra notte sono riusciti a ritrovare il suo corpo senza vita. Il carcere di Imperia conta un numero di detenuti quasi doppio rispetto alla normale capienza della struttura. La denuncia arriva da Fabio Pagani, il segretario regionale del sindacato Wilpa, Polizia Penitenziaria, che evidenzia come negli ultimi giorni siano state registrate centro presenze di reclusi a fronte di una capienza massima di 68. Proprio per questo motivo di recente alcune persone arrestate sono state dirottate verso il carcere di San Remo. Il sindacalista evidenzia anche come i rappresentanti delle camere penali abbiano sottolineato lo stato di abbandono e faticenza della struttura con presenza di umidità e muri sgretolati. Una situazione insostenibile anche per gli agenti della Polizia Penitenziaria, che per la Wilpa sono costretti a vivere in un ambiente malsano e sottoposti a forti rischi anche dal punto di vista della sicurezza. La Wilpa chiede quindi con forza che le istituzioni si attivino assumendosi per competenza le responsabilità prima che sia troppo tardi. Per Fabio Pagani si permangono queste condizioni e a rischio infatti la sicurezza del carcere della stessa città.